Come comprare e soprattutto chi produce la nuova maglia di CR7 dell'Alnaz Football Club? Come sappiamo, uno degli asset principali di CR7 è la sua capacità di impattare sulle vendite delle maglie del club in cui gioca, facendo registrare vendite altissime in tutti i suoi cambi di casacca. L'Alnaz, subito dopo l'annuncio dell'acquisto di CR7, ha fatto stampare numerose magliette nello store ufficiale del club Ariad, proprio per far fronte alle richieste di tutti i suoi tifosi, e lo sponsor tecnico del club, l'azienda saudita Duneus, è riuscito per il momento a sopperire a tutte le richieste. La maglietta è acquistabile al momento sul sito ufficiale del club e negli store fisici di tutta l'Arabia Saudita. Il prezzo 75 euro.